E' mezzanotte tra ieri e oggi e io sono sveglio da 32 ore, dove cazzo sto andando? Devo sbagliato strada. E si parte col primo livello della nuova mappa, Colle... Colle Tempesta? Ok. Dai, sono pronto, sono a carico. Oceano, carico non proprio, però mi sento euforico, ecco. No, neanche quello, se uno non dorme, non dorme e basta, non ha problemi. Infatti sono secondo, non è possibile. Io non devo essere secondo. Ed è... Ma vaffanculo, stavo per recuperare la posizione, non so. La cassa me l'ha fregata. Bene, non è neanche tanto male, sto recuperando. No, come l'ho detto, non ce l'ho fatto invece, sto recuperando bene. Ho preso la mia pozione, non è possibile. E non ho preso la cassa. Vabbè, ho preso la nitro alla fine, ma tanto ho concluso, non mi importa. Chissà se riesco a far durare almeno sto video 5 minuti e non 8 o 10 come al solito, perché quasi quasi forse è meglio che vado anche a dormire. Dopo 32 ore? Eh, non credo che sia un'ottima idea. Adesso c'è il livello delle miniere, quindi... E quindi niente, ci sono i carrelli che si muovono e devo evitarli. Tanto questi dettagli non che lo freghino qualcuno. Cazzo, no, 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 si è fermato. Continuo ancora a non capire come fare le curve strette, perché continuo ad andare fuori. Ecco questa, ad esempio. Non ce la farò. Qualcuno mi deve spiegare. Oh, Minecraft. Eh, adesso lo metto nei tag, eh. Ma tanto non frega più nessuno ormai di quel giorno. Dai, ma almeno una cassa. Almeno quella, dai. Vado a prendere? Oh, almeno quella l'ho presa. Però sto andando fuori per quella cassa alla fine. Una, presa. Prima cassa presa della partita. Ok, ci sono. Fuck. Eh, no. E ho tolto tutte le casse degli altri. Oh, mi va bene. Perfetto. Fuck, no. Sarò anche deficiente. No, vabbè, in realtà volevo provare a fare la curva stretta, magari riuscivo a farcela. Invece no, continuo ad andare fuori. Eh, no, l'ho persa. Posso riprovare. In teoria per fare i 5 minuti di video sarebbero 3 gare. No, 3 gare. 4 gare circa. Quindi sperando che questa non mi prenda troppo tempo, magari ve la taglio, anzi. Eh, così posso fare anche un altro livello. Ogni livello dura circa quanto un minuto l'uno, quindi tagliando. Non lo so, non lo so, le 32 ore si fanno sentire. Infatti saranno aumentate ormai e aumenteranno ancora di più. Oh, sono primo. Non neanche me ne sono accorto. No, come fanno loro? Io non so, c'è un tutorial mi serve. Eh, vabbè, anche il ragazzo, un tutorial mi serve. Eh, devo superarli adesso. Tutti adesso. Se no, sono spacciato. Mi sono fermato. Mi sono fermato. Me ne ho preso la cassa. Dai, dai, dai. Che ci sono? Non lo sto tenendo. Eh, qui adesso è il problema. Merda. Eh, no. Merda, merda. Quanta merda. Dai, pure. Sono secondo. Dai, devo farcelo. Devo recuperare. Dai. Ci sono. Vittoria. Ultimo, vallico polare. Sì, questo forse ne sono anche abbastanza veloce. Non riesco... Eh, ma non riesco neanche ad entrare. No, ce l'ho fatto. Cerchiamo di minimizzare i tempi perché qua se no... Se faccio troppi tagli, poi il video è troppo lungo... Perché questo non è più cassa? Vabbè. Poi il video magari è anche troppo lungo, poi... Diciamo stufa. Sia a me che a voi perché io... Devo anche editarlo e poi volevo... Voglio andare a dormire. Voglio dormire. Forse. Ecco qui, se vai troppo veloce. Il problema è che vai fuori. No. Vedi. È per quello che odio un po' questi livelli. Ok. Tricchichi. Non lo so. Sono concentratissimo. Non riesco neanche a parlare. No. L'ho qua. Troppo veloce. Troppo veloce. L'ho tenuta. Non male, non male. Ah, è noto anche che c'è un distacco... Sempre immenso, come dico, ogni volta. Dagli altri. Uh, che girata, curva, storta... Quello che è... Non lo so. Però l'ho fatta bene. E si va a vincere. No, come? Ma io pensavo fosse già il giro finale. Potrei fare altre battute sul fatto che sono stanco, ma forse ormai ho anche stufato. No, niente. È una palla anche parlarne solo. Ok, più o meno ho capito la tecnica per sterzare e fare le curve strette. Però il problema è che non ho il turbo. Praticamente devo mollare tutti i tasti e premere solo quadrato. Quindi non va bene. Vedi, salto. Premo solo quadrato. E quindi rallenta anche. Però mi sa che comunque recupero il tempo perso nel caso non rallentasse. Vabbè, tanto ho vinto comunque. Sempre col distacco in mano. I tempi sono... Vabbè, padre, sono storti. Però sono lì più o meno. Uno e due, uno e tre, uno e quattro. E ora vado a dormire, dai. Bene, e ora andiamo a derappare per strada. Grazie.